99 punti segnati a Capodorlando, soprattutto Presidente Marchesani in una serata bella, la serata di Pasqua con tanto pubblico, una salvezza conquistata. Per l'aritmetica manca un qualcosa di quasi impossibile, ma è stata una bella serata. Diciamo che la salvezza è stata conquistata, è vero che non è proprio aritmetico ma deve succedere il finimondo. Con la vittoria di oggi abbiamo raggiunto quell'obiettivo che sia un posto noi come società, giocatori e tutti, staff da inizio campionato. Oggi colgo l'occasione per ringraziare tutti i tifosi, dalla Curva Volpi alla Fossa Bianco-Rossa, voglio ringraziare il Comitato del Centenario per l'evento organizzato, tanta gente. Credo che oggi abbiamo fatto un passo molto importante anche e soprattutto per iniziare a riprogrammare la stagione prossima. Grazie a tutti.